Il disegno di legge concorrenza varato dal governo Draghi nel Consiglio dei Ministri di giovedì scorso, inviato ora per la conversione in legge al Parlamento, se approvato nell'attuale versione, renderà quasi impossibile mantenere in mano pubblica la gestione del servizio idrico integrato e degli altri servizi locali. Pertanto le sei società di gestione dell'acqua abruzzesi, ACA, Sasi, Ruzzo, CAM, SACA e GSA verranno quasi certamente privatizzate se non si cambierà radicalmente il testo. Questa è la denuncia del forum abruzzese dell'acqua che parla di attacco al referendum popolare del 2011. La faccia del referendum perché nel disegno di legge che adesso va al Parlamento ma che avrà una strada privilegiata purtroppo e prevede che i comuni che devono scegliere il gestore dei servizi, quindi non solo l'acqua ma anche per esempio i rifiuti, dovranno giustificare qualora vogliano mantenere in mano pubblica la gestione, dovranno giustificarsi presso l'autorità per la concorrenza, dovranno sostenere degli esami uno dopo l'altro, un vero e proprio percorso a ostacoli mentre invece se decidono di darli ai privati hanno sostanzialmente mano libera, quindi avranno un percorso facile per privatizzare mentre invece mantenere in mano pubblica la gestione dei servizi essenziali sarà difficilissimo. Sia per i servizi idrici sia per gli altri servizi pubblici ma anche per esempio per l'autostrada, cosa è successo quando abbiamo privatizzato l'autostrada? Guardiamo qui, abbiamo tanti di quegli esempi e poi comunque anche a livello europeo ci sono studi che hanno dimostrato assolutamente che la privatizzazione dei servizi idrici locali hanno portato non alla concorrenza in realtà ma a dei veri e propri monopoli e questa è una cosa veramente grave, i parlamentari abruzzesi devono darsi da fare perché in Parlamento facciano il loro mestiere e salvino gli enti pubblici locali.